cresce l'attesa per la nuova puntata del grande fratello vip che andrà in onda domani venerdì 15 ottobre 2021 su canale 5 intanto nella casa giammaria ha deciso di votare il sacco e rivelare il suo interesse per sofì sei interessato non mi piace questo comportamento la risposta deve essere immediata ha dichiarato aldo stranito dal comportamento confuso dell'ex di belen rodriguez certo che sono interessato a sofì io sono molto riservato sulle mie cose non sono uno che va a dirle ai 4 20 quello che dico è che volevo prendermi un attimo per me prima di fare qualcosa ha replicato antinolfi ammettendo di avere un reale interesse per la codegoni dopo essersi confrontato con aldo e giukas giammaria ha affrontato la questione sofì con alex belli che gli ha consigliato di prendere una posizione nei confronti di greta dovresti prendere una posizione su greta bella decisa dovresti chiudere in diretta con lei antinolfi seguirà il suo consiglio staremo a vedere